Ospitare il pastore della diocesi è paragonabile alla stessa gioia dell'accogliere Cristo e con queste parole che il parroco di Cerce Piccola, Don Giovanni Tramontano, ha descritto la visita pastorale dell'arcivescovo della diocesi di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Maria Brigantili, che da giovedì staziona nel piccolo belvedere della Valle del Tama. Una quattro giorni di preghiera e riflessione cominciata con l'accoglienza da parte dell'intera comunità insieme al sindaco Michele Siniele alle porte del paese, nell'attesa dell'arrivo di Sua Eccellenza. Un solenne corteo si è poi regalato presso la parrocchia del Santissimo Salvatore dove si è celebrata la Santa Messa, al termine della quale l'arcivescovo ha ricevuto un gradito dono, un palloncino a sua immagine e somiglianza realizzato dai bambini dell'Azione 14. Il primo giorno della visita pastorale ha visto anche l'incontro di Monsignor Brigantini con il Consiglio Pastorale ed Affari Economici, durante il quale, in un lavoro collettivo, sono emersi i pro e i contro dell'attività parrocchiale Cerce Piccolese, nonché possibili soluzioni e punti su cui focalizzare maggiormente i propri sforzi. Al fine di rendere una piccola comunità sempre più simile ad una grande famiglia. Nelle giornate che compongono l'evento, il Vescovo ha fatto visita alle aziende del paese, agli ammalati, ai bambini delle scuole elementari, della Materna e dell'Azione Cattolica, al Consiglio Comunale, ai giovani della comunità e dall'Associazione Culturale San Fieri e Bal di Onlus. Il senso è proprio quello di un Vescovo che, come tutti i Vescovi, visitando le proprie diocesi, si propone, si prefissa tre obiettivi. Creare legami sempre più diretti con i sacerdote, rafforzare la fede dei suoi fedeli, entrare in tutti gli ambienti di vita portando luce, speranza e coraggio. Questo è il grande obiettivo della visita. E' molto bello per questo stare insieme al sacerdote, dormire qui. Quindi io resto qui quattro giorni, giovedì sera, venerdì, sabato e domenica. Quindi è un momento molto, molto intenso e arricchente, reciprocamente arricchente. Cosa spera di lasciare alla comunità e cosa pensa di portare via? Di lasciare, penso di lasciare la speranza, di portare l'esempio e l'edificazione di queste comunità piccoline, ma ben radicate nella fede, comunque rafforzabile e rafforzata da questa visita, e poi raccogliere le cose più belle che questo luogo ha. Per esempio la riscoperta della figura di Monsignor Armando Lombardi, che è stato un protagonista della fede di questo popolo, qui è nato nel 1905, è diventato vescovo nel 1950 e si è distinto come enunzio in Brasile e nell'America Latina. Il 24 di questo mese, cioè sabato, lungo questa veglia, per un provvidenziale momento di incontro, noi faremo la veglia dei martiri, partendo proprio da un martire dell'America Latina, che probabilmente il vescovo Lombardi aveva in qualche modo intuito, ed è molto bello allora ricordare Monsignor Romero e i tanti martiri del 2011, e tutti i martiri che hanno dato la vita per la fede. Farò questo momento di veglia la sera del sabato, qui in questa parrocchia. Io lancio l'appello a tutti gli organi di stampa, perché possano valorizzare questo momento, e chiederei anche a voi di farsene promotori, secondo le vostre possibilità.